Ciao a tutti amici di Faro Team. Questa mattina siamo in compagnia con una bellissima bionda, lei e Camilla. Ciao Camilla, grazie di essere qui con noi oggi. Camilla è venuta qui questa mattina per fare il casting, quindi si è sottoposta a vari show di fotografici dove prossimamente la vedremo, però non vi svelo nulla, anzi andiamo proprio a conoscerla. Camilla, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, cosa fai nella vita? Allora io mi chiamo Camilla, ho 21 anni e nella vita sono una studentessa, studio comunicazione e marketing, sono al secondo anno e oltre a questo ho una passione che è la danza, studio di danza classica da 18 anni e nella vita spero di concludere intanto i miei studi che è il primo passaggio e successivamente mi piacerebbe comunque diventare presto autonoma, indipendente e poi comunque questo mondo un po' come fotomodella, modella, mi affascina, quindi spero di continuare in questo ambito. Nell'ambito della moda? Sì, ok. Non so, c'è qualcosa in particolare che ti piace fare di questo lavoro? Shooting, passerelle, non so se magari precedentemente hai avuto qualche esperienza che ti ha colpito un po' di più insomma? Allora sì, ho avuto qualche esperienza e ho partecipato a diversi concorsi tra cui Miss Venice Beach e ancora oggi ringrazio questo concorso soprattutto Elisa Bavorto che per me è stata... e per me è stato molto importante perché mi ha, diciamo, mi ha cambiato, mi ha proprio insegnato come stare in un palco, come posare, tutto, quindi sì, mi ha dato anche molta visibilità. Quindi sei cresciuta molto in modo personale? Sì sì sì, anche grazie a questi concorsi a cui ho partecipato ho iniziato a credere molto più in me stessa, infatti è una cosa che consiglio a un sacco di ragazzi che hanno poca autostima proprio di partecipare perché... Brava Cammy, noi lo diciamo sempre perché secondo me è un modo per un previaggio, giusto per superare la timidezza. Sì sì, è vero, assolutamente. Io ero timidissima una volta. Ah beh, anche io guarda la prima volta era così un po' per tutti penso, però ti ha aiutato molto, vero? Molto, moltissimo, moltissimo. Quindi hai qualche altro proposito per il futuro? Cioè magari vuoi continuare su questo mondo qui o ti dedichi a quello che hai studiato? No, allora mi piacerebbe continuare in questo mondo. Chiaro vorrei cercare di mettere insieme quello che sto studiando insieme a quello che comunque mi piace fare. Io sto studiando comunicazione e marketing e più pubblicità, quindi magari mettere in pratica le cose teoriche che studio. Giusto. Ok dai, guarda io ti auguro il meglio sia per quello che stai studiando sia di continuare nel settore della moda perché... Come vedete insomma è bellissima, ha tutte le carte in regola per farlo, quindi Camille noi ti aspettiamo qui anche la prossima volta che ci verrai a trovare. Grazie. Amici di GDF Team per oggi è tutto, salutiamo la nostra Camilla, un bacio, grazie Camille per essere stata qui con noi oggi, alla prossima, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!